Per il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo si tratta di lesione dell'autonomia statutaria. Per questo ha deciso di avvalersi dei poteri attribuiti dallo Stato e promulgare integralmente la legge autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie che prevedeva l'accensione di un mutuo di 558 milioni di euro approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dello scorso 27 aprile, nonostante l'impugnativa avanzata dal commissario dello Stato. Il provvedimento serviva a pagare gli stipendi di 27 mila forestali e dei mille dipendenti dell'ente sviluppo agricolo che adesso sono a rischio. Comunque pubblichiamo la legge anche perché riteniamo, ma non lo riteniamo noi, lo ritiene anche il commissario dello Stato, lo ha ritenuto negli anni scorsi e non vedo perché questo mutamento di orientamento, che si tratta di un investimento, è un investimento sacrosanto quello che è relativo alla protezione alla salvaguardia del nostro patrimonio boschivo, che questa salvaguardia si faccia ovviamente con il lavoro dell'uomo mi pare una cosa scontata, è stato così in passato e non può che essere così anche quest'anno. Peraltro i dati relativi a questo mutuo da contrarre credo che fossero disponibili presso gli uffici come se erano stati già da qualche mese a questa parte. Quindi questa è una determinazione che peraltro varrà anche per l'avvenire credo per la regione perché noi stiamo vivendo una situazione paradossale, saremmo una regione a statuto speciale ma a differenza delle regioni a statuto ordinario subiamo il controllo preventivo sulla legittimità dei nostri atti e delle nostre leggi. Da che eravamo una regione a statuto speciale dotata di grande autonomia siamo diventati l'ultima ruota del carro. Per Lombardo si tratta di rilievi privi di pregio poiché la scelta legislativa dell'Assemblea regionale siciliana oltre ad essere in piena armonia con le normative e regolamenti comunitari attinge anche al principio della sommorgenza legata ad interventi di carattere straordinario. Per queste ragioni la promulgazione integrale della legge appare un atto doveroso e costituzionalmente corretto. Io credo che parecchie delle norme contenute nella finanziaria sono meritevoli di essere pubblicate. Ci siamo trovati con un bilancio che vedeva una spesa corrente che era cresciuta forse negli anni precedenti dell'80%, compresi i dipendenti. I 26.000 forestali quando siamo entrati noi erano 30.000. Non credo che abbiamo assunto un solo forestale, un solo dipendente dell'EAS perché abbiamo bloccato le assunzioni, ma questa agenda cosa facciamo? La buttiamo in mezzo ad una strada e facciamo esplodere una bomba sociale di proporzioni inimmaginabili in Sicilia. Ecco perché mi assumo questa responsabilità, per esercitare un'autonomia che non può essere messa sotto i piedi.